Situazione oggi tornata tutto sommato alla normalità a Colle Maggio, ma ieri lunghe file, come documentano le foto inviateci, in ingresso all'ASL a bloccare il traffico cittadino da prima della Basilica di Colle Maggio con la bonizia municipale che ha dovuto intervenire, gente spazientita, a condire una domenica di tamponi all'ASL 1, tamponi per lo più per le scuole, visto che molte classi sono in quarantena. E il meccanismo è entrato in tilt, forse proprio perché di domenica non c'era abbastanza personale, così per lungo tempo, sino all'arrivo dei rinforzi, una sola operatrice gentile e che non ha mai perso la calma, nonostante la situazione, a scrivere e fare tamponi. Gente infuriata, anche tre ore di attesa in macchina, erano 250 le richieste ieri e ci si è ritrovati senza un'infermiera, che non è potuta andare al lavoro, tant'è che lo stesso direttore del Dipartimento, Domenico Pompei, si è messo a sbrigare carte. Nella tarda mattinata la situazione è rientrata, il problema è di facile comprensione, il personale probabilmente non basta e i casi ora sono di più, come i tamponi da eseguire e per cui servirebbe un massiccio rafforzamento, che di certo non dipende, si perdoni il gioco di parole, dai dipendenti che fanno ciò che possono, anzi, da due anni sono stremati. Inoltre non c'è più il drive militare di supporto all'aeroporto di Preturo, chiuso da tempo. Effettivamente noi adesso siamo impegnati su più fronti, dobbiamo garantire, cosa fondamentale, quella che è la vaccinazione anti-covid, in particolare le terze dosi e nello stesso tempo dobbiamo provvedere a fare quelli che sono i tamponi. Il personale purtroppo non è infinito, anche l'amministrazione sta facendo moltissimo per cercare di darci il nuovo personale, ma è chiaro che si può verificare che la domenica e i festivi si vada in sofferenza. Ora questo dipende moltissimo anche da quello che è il protocollo scuole, voi sapete che non c'è la volontà di fare la DAD e di conseguenza con quello che è il protocollo scuole, i tamponi al tempo 0, al tempo 5, determina una grandissima richiesta. Ed ecco che purtroppo, e noi di questo chiediamo scusa a tutti i cittadini, si è verificata questa fila. Noi cercheremo di non far ripetere questi eventi, però chiediamo anche un po' di pazienza a tutta la cittadinanza perché il lavoro è veramente tantissimo. Poi noi l'anno scorso, come ben ricordate, avevamo il supporto del team militare che ci aiutava presso l'aeroporto di Preturo, quest'anno non c'è più e il numero di casi è più o meno lo stesso dell'anno scorso, anche se di gravità decisamente inferiore.